Buongiorno e grazie di essere venuti, benvenuti a tutti quanti. Come sapete siete stati spammati per due mesi sul fatto che stiamo facendo questo evento, quindi vi ringrazio di essere venuti, ringrazio voi, ringrazio i nostri sponsor che sono Pure Storage, Nutanix, Zerto e VMware, che trovate tutto il giorno nell'altra sala ma che avranno delle sessioni anche durante la giornata. Prima cosa per chi non l'avesse visto prima c'è il wifi, quindi come vedete stiamo migliorando, ogni momento miglioriamo un pochino, abbiamo il nostro wifi con la nostra password, per cui se volete non dovremmo essere limitati dal wifi dell'albergo che in effetti fa abbastanza schifo. Abbiamo anche un hashtag che... e... che... che in effetti ha fatto un �amarore